Musica Musica La giornata a ricordare sicuramente per quanto riguarda il movimento del ciclo cross Primo con le tani, secondo dei ricordi Bravi ragazzi, bravi Vediamo la rio di altri fletti in zona traguardo, la udiamo Nadir, l'emozione è fortissima, hai fatto la gara della vita Sì, non ci credo ancora Stas settimana stavo bene, sapevo che qualcosa potevo dire Poi magari sono stato anche un po' fortunato, però ce l'ho fatta E ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino, che mi aiutano Il danno che mi grida, però so che lui lo fa per il mio bene Marco Trentin, che è un'altra persona che mi bastona qualche volta, però Grazie a lui anche sono qua La mia famiglia che si è fatta a mille chilometri, quindi Ringrazio tutti e oggi è stata una bellissima giornata che ricorderò per sempre Hai dato il meglio di te su un percorso straordinario Sì, oggi siamo partiti che ho avuto qualche problema nella partenza Poi ho visto che Bertolini non ha fondato Che solitamente lui nei campionati italiani cerca di andar via all'inizio Poi ho visto che è caduto, non ho bene capito cosa è successo Ho fatto tre virgolette alla bastardata, però è l'unica cosa che dovevo fare Accelerare, cercare di tenere il più vantaggio possibile Ce l'ho fatta Fino a 5 metri dall'arrivo non ci credevo Penso che adesso comincio a realizzare Quindi va bene così Una dedica per questa bellissima maglia tricolore Sì, alla mia famiglia, a Pontoni, a Trentino Rosa, alla mia ragazza Tutte le persone che mi vogliono bene, che ce n'è, so che ce n'è Quindi un bacio a tutti Si prepara ad applaudire il nuovo campione d'Italia della categoria Under 23 Il trevino da dirlo con le mani Il trevino da dirlo con le mani